Qualche mese fa si parlava di difficoltà del tribunale, carenze di personale. Qual è lo stato dell'arte adesso? Qualcosa è cambiata? Lo stato dell'arte è che siamo in attesa che arrivino cinque MOT, cioè quelli che un tempo erano chiamati uditori giudiziari, magistrati di prima nomina, penso entro il mese di gennaio del 2024. Nel frattempo abbiamo avuto altre defezioni, ma almeno adesso c'è un minimo di possibilità di guardare al futuro con una certa fiducia. E' chiaro che la vera guerra, queste sono battaglie per il tribunale, la vera guerra sarà quella di avere un aumento degli organici, ma quello è un problema molto legato alla situazione economica del paese, quindi a problemi di bilancio e di gestione delle risorse. Diciamo che è molto più difficile arrivare a vincere quel tipo di guerra, chiamiamola così, ma almeno abbiamo delle speranze di poter operare non in una completa situazione di abbandono.